Ho studiato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove ho fatto sia la triennale che il master e dopo ho iniziato il mio dottorato alla London School of Economics, che sto concludendo ora e sarò sul job market accademico quest'anno. Grazie al supporto della Fondazione Einaudi ho potuto completare la mia tesi di dottorato, in particolare su due progetti. Entrambi riguardano differenze occupazionali di genere in due contesti molto diversi. Uno è in Inghilterra e mi chiedo perché non si vedono più uomini in quei lavori che sono solitamente dominati dalle donne, per esempio come assistenti sociali, come infermieri o come segretari. Invece in un altro progetto guardo alla rappresentazione delle donne nell'imprenditorialità e questo progetto è in Zambia, quindi in un contesto molto diverso in developing country.